Un nuovo rinascimento del sindacato, è questo il titolo scelto per il 18esimo congresso territoriale della Cisla Pensionati che si è svolto lunedì 13 marzo. Welfare lavoro per uno sviluppo sostenibile, il sottotitolo dell'incontro, ma anche l'obiettivo portato avanti dal sindacato negli ultimi anni. Il nostro impegno è quello prioritario per quanto riguarda il welfare sociale, cioè un particolare attenzione a quelli che sono i servizi rivolti alla persona, perché sappiamo oggi le difficoltà che incontrano ad avere sia servizio per quanto riguarda i malati cronici, che a fronte di crisi e di difficoltà familiari sono costretti ad andare poi al pronto soccorso, intassando quelle che sono veramente poi le urgenze. Mentre noi puntiamo a intensificare, come prevede la riforma sociosanitaria, sul territorio una presenza più importante e questo ruolo dovrà essere svolto principalmente dai medici di famiglia. Se poi il problema persiste, allora si dovrà andare là dove ci sono le eccellenze, dove c'è il presidio ospedaliero appropriato per intervenire. Però vogliamo un territorio che risponda alle esigenze dei cittadini in maniera più vicino ai cittadini. Quali sono a livello nazionale le battaglie che state portando avanti? Quali sono i risultati ottenuti fino ad oggi? Le battaglie che stiamo portando avanti, adesso la seconda parte che avevamo ancora pendi con il governo, relativo all'accordo del 28 settembre l'ultimo scorso, che ricordiamo è stato per noi un accordo molto positivo perché per la prima volta dopo dieci anni non si mettono le mani in tasca ai pensionati, anzi si dà qualcosa. Abbiamo ottenuto la no tax area uguale per tutti. Adesso il prossimo 23 marzo abbiamo l'incontro al governo, il tavolo si è riaperto lo scorso 21 febbraio e parleremo di due cose molto importanti. Una è la separazione fra previdenza e assistenza e poi un nuovo paniere Istat più adatto alle necessità e bisogni delle persone anziane e poi della rivalutazione e la ricostituzione di un montante virtuale che dal 2019 servirà per l'applicazione della legge Prodi per la perequazione delle pensioni.